Ai nastri di partenza per la Mara Tropea 2016, giunta alla terza edizione. Gara podistica su strada organizzata dall'Associazione Tropea Eventi in collaborazione con l'Atletica San Costantino Calabro, patrocinata dal Comune di Tropea, dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dall'Agenzia Spaziale Italiana. Due le categorie in gara, fight walking maschile e femminile e non competitiva. Diversi i percorsi, 4 km per la categoria non competitiva, 6 per la categoria fight walking, 8 per la categoria competitiva maschile, 6 per quella femminile. Per l'occasione saranno presenti gruppi provenienti da diverse città della regione ed Italia, che potranno approfittarne per visitare le varie bellezze. L'appuntamento è per domenica 26 giugno, raduno in Piazza Vittorio a partire dalle ore 16, un percorso che si snoderà su tutto il centro della Perla del Tirreno. Da Vibo Valencia per la Cinews24